Ciao ragazze, buongiorno. Oggi è una giornata davvero uggiosa. Sto cercando di dare un po' di energia a questo nostro appuntamento, ma è abbastanza complicato. Comunque, che cosa fare durante queste giornate di pioggia? Sicuramente la cosa migliore è accoccolarsi a casa e leggere un bel libro. Uno che vi voglio consigliare per l'appunto, lo vedremo fra poco, perché questa è la nostra prima puntata per quanto riguarda la ricerca del libro perfetto. Eccoci ragazze. Allora, spero che voi siete bene, che sia stata una settimana interessante. Purtroppo siamo ancora abbastanza chiusi nel nostro lockdown, ma cerchiamo di godere di tutto quello che abbiamo attorno a noi. Prima fra queste cose, diciamo, una delle prime attività che si fanno in questi giorni è proprio la cucina e il cucinare. E devo dire che non so se tutte voi siete delle provette cuoche. Io, diciamo, sono molto appassionata della cucina, però non ho l'esperienza di una grande chef. Ho la fortuna di avere una famiglia comunque che ha sempre cucinato parecchio, per cui questo mi ha aiutato molto. Ma ho trovato, come sempre, un piccolo trucco che vi voglio suggerire. In realtà vi parlerò di una persona. Lei si chiama, intanto vi faccio vedere i libri, si chiama Donna High. È una, diciamo così, cuoca, perché possiamo assolutamente definirla cuoca con la C maiuscola australiana, che ha prodotto alcuni libri. Devo dire che io sono incappata in uno dei primi libri che ho acquistato di lei parecchi anni fa. Ve lo faccio vedere, però non è un libro che si trova ancora in commercio, difficilmente lo troverete nelle librerie. Comunque mi ha entusiasmata non solo la minimalità, l'essenzialità di quello che lei proponeva, ma anche il fatto che ci desse dei piccoli trucchi per riuscire a cucinare qualunque cosa nel migliore dei modi. Ed è un po' quello che io definisco sempre il mio minimalismo chic, cioè cercare di arrivare alla radice delle cose per poi lavorare proprio sulla radice delle cose per poi raggiungere l'ottimo. Questa è appunto Donna High, questo è il primo libro che io ho acquistato di lei, Cucinare in un istante. Per l'appunto, come vedete, non si tratta di un piatto assolutamente complicato, quello che lei mette in copertina, ma si tratta comunque di qualcosa di meraviglioso, perché è presentato e cucinato nel modo migliore e quindi lei si è prodigata per trovare il modo migliore per poter cucinare le cose più semplici. E questo libro nera appunto, ve lo farò vedere, magari riuscirò a far vedere qualche pagina, qualche estratto, perché se sentite ancora c'è la colla dei post-it che io ho utilizzato per studiarlo a fondo e devo dire che mi ha aiutato e l'ho utilizzato così tanto che ho sempre cucinato quasi tutto quello che lei ci suggeriva. Quest'anno, in libreria, in una delle nostre passeggiate ovviamente, andiamo sempre in libreria perché è un posto che a me piace moltissimo. È una cosa un po' agé, però il fatto di possedere un libro, di abbracciarlo, di tenerlo. Non leggo molti romanzi, devo dire la verità, però mi piacciono moltissimo i saggi, mi piace imparare dai libri, mi piace averli ogni tanto, ne compro così tanti che per osmosi penso che loro riescano ad entrare dentro di me e di insegnarmi qualche cosa. Questo è il libro che io ho chiesto, diciamo, per questo mio ultimo compleanno, era una delle mie richieste ed è un libro che ho appunto trovato in libreria proprio questo Natale, l'ho visto e ho detto è uno dei desideri che vorrei, è uno dei regali che vorrei ricevere, è uno dei desideri che ho perché anche questo, come vedete, è Donna Hai, le basi dell'eccellenza in cucina. Ovviamente solo l'immagine che abbiamo di copertina è meravigliosa, la camera non la restituisce, però è veramente bella e all'interno, oltre i disegni di Giulia che mi nasconde all'interno, abbiamo un reportage fotografico di lei mentre cucina, ma abbiamo soprattutto una carrellata di immagini e di ricette descritte nel modo migliore possibile. Ho già realizzato, l'ho appena avuto questo libro, ho già realizzato per l'appunto parecchie ricette di questo libro che veramente è meraviglioso perché punta proprio all'essenzialità, cioè alla base della ricetta e ci dice ok questo è il pomodoro, questo è l'aglio, che cosa farne e soprattutto noi che siamo di corsa. Come realizzare queste cose nel modo migliore, con la qualità migliore utilizzando solo gli ingredienti di base. Beh, questo è ciò che io sto cercando di imparare appunto da questo libro, che è uno il primo di quelli che vi consiglierò. Ora però andiamo a vedere perché è arrivato un delivery, volevo aprirlo con voi, giusto per capire un po' come stanno andando le cose. È un momento un po' di transizione, devo dire che io ho passato tutta la settimana, tutte le sere di questa settimana a lavorare sul blog, adesso manca una settimana a San Valentino, io speravo tantissimo di poterlo pubblicare prima di San Valentino, spero di potervi fare una sorpresa, per cui ci sarà un video, ma stiamo partendo per un viaggio, appunto per il weekend di San Valentino andremo, non molto lontano ovviamente, ma in un posto davvero romantico e quindi vi porterò assieme a me e vedremo questa cosa. E nel frattempo dicevo sono di grande rivoluzione perché ho sempre la volontà di migliorare anche in quello che è l'arredamento, per esempio. E adesso vi farò vedere un paio di delivery che sono appunto un paio di cose che sono arrivate questi giorni. Primo fra tutti andiamo a vederlo assieme, viene da Le Crosette. Eccoci ragazze, allora vi stavo dicendo che oltre a parlarvi di libri, oggi vi voglio parlare un pochino di che cosa sto costruendo all'interno della nostra casa, in particolare appunto le novità che stanno arrivando un po' da ovunque. Questa è una novità di Le Crosette, è un'azienda che a me piace moltissimo e quindi ho deciso di farmi questo regalo. Vorrei fare l'unboxing con voi, ora vediamo. Perché davvero questa mattina è arrivato un fattorino che mi ha presa alla sprovvista, come sempre, dicendo venga, venga fuori signora, venga fuori. Ma pioveva e quindi è stato abbastanza difficile. Vediamo che cosa c'è all'interno di questa scatola. Ovviamente il contratto di ciò che ho acquistato e poi lo vediamo insieme. Carta di un ballo che è molto terpietro. ecco qui. Vediamo che il viaggio per loro sia andato come doveva. Eccole qui. Metallics, Le Crosette. Devo dire che Le Crosette, come tante delle aziende che io amo, è appunto una marca che ha in sé la qualità di ciò che produce, perché ovviamente è una marca storica che produce pentole in ghisa, ma che ha lanciato anche questa linea ovviamente per la cucina molto elegante, secondo me. Ed eccole qui, le tazze che io davvero desideravo moltissimo. Si chiamano Metallics e sono più belle di quello che io sperassi. All'interno, come vedete, hanno tutto un color crema, molto caldo. E poi io le ho scelte nelle nuance, nelle tonalità molto, molto soft. Eccole qui. Sono marcate ovviamente le Crosette. Ed ecco qui. Sono arrivate. Vediamo tutti i colori, sono bellissime. Hanno questo, non so se veramente si vede bene, perché hanno questa tonalità, si chiama Metallic per l'appunto, che è metallizzata. Quindi sono dei colori soft, ma nello stesso tempo sono metallizzati. Anche il grigio ha comunque con una perlescenza dorata sopra, che lo rende davvero, davvero interessante. E poi, come vedete, i colori di per sé, questo è il lilla, i colori di per sé sono davvero, davvero bellissimi. Sono contentissima. Le ho aspettate un po', devo dire, però ne è valsa la pena. Spero che piacciono anche a voi. Eccoci qui. Eccolo ragazze. Come vi dicevo, è arrivato da pochissimo. Non è così facile farvelo vedere. In realtà avevo già filmato tutto il video in verticale, ma ovviamente per necessità, deve essere in orizzontale, è il nostro mobile nuovo Liberty. È proprio meraviglioso, secondo me. È completamente ovviamente fatto di vetro. Mi piace perché il vetro, come potete vedere, è comunque pregetto anche il vetro. Lo specchio di fondo ovviamente è antico, quindi ha tutti questi piccoli puntini che fanno per l'appunto parte della vita del mobile. Ed è un mobile Liberty meraviglioso. Io ne sono davvero contenta. Adesso l'ho riempito. Ovviamente pulisce moltissimo l'immagine del bagno, lo rende molto più prezioso di prima ed è proprio parte di quello che io definisco la mia scelta appunto minimal chic, ovvero cercare di eliminare tutto, ops, la porta, di eliminare tutto il plus, ovvero il surplus. Infatti come potete vedere ho eliminato tutti i mobili ed è rimasto, eccolo qui, ed è rimasto per l'appunto solo lui a fare, proprio a farla da padrone, diciamo così, all'interno di questo bagno che quindi viene veramente impreziosito dalla sua presenza. Fa appunto parte delle mie scelte minimal chic, ovvero io ho cercato di eliminare moltissimo di quello che era l'arredamento anche all'interno, all'interno della mia casa, ma ciò che è andato a sostituire, ovvero le piccole scelte che sto facendo, sono sempre minimali. Vanno sempre per l'appunto a cercare qualche cosa che vada a riassumere le funzioni e quindi questa è la nostra vetrinita, ma nello stesso tempo sia chic, ovvero abbia al suo interno una storicità, abbia un percorso, ci sono dei dettagli da vedere, c'è una storia da raccontare che quindi lo rende veramente speciale. Io ne sono davvero contenta ed è un piccolo passo che poi voglio dire spero continuerà e lo condividerò con voi di volta in volta. È sera ormai, per cui non posso farvelo vedere più di più di molto, proprio perché siamo immersi negli specchi, ma volevo darvi una proporzione di quello che è il mobile. L'ho sistemato, ho sistemato tutte le cose al suo interno in modo da avere per l'appunto i miei prodotti, in modo da avere gli asciugamani e tutto quanto e ne sono veramente contenta. Ora spero che Giulia quando lo vedrà ne sarà contenta anche lei perché di solito invece a tutti i cambiamenti lei non reagisce bene come tutti i bambini, vorrebbero mantenere tutto sempre uguale. Torniamo ai nostri libri. Eccolo qui ragazze, guardiamolo un attimo assieme nel dettaglio, è un libro davvero meraviglioso. Ho scoperto di lei appunto che è australiana, in realtà io pensavo fosse inglese e la cosa bella è che è un libro, non solo dice le basi dell'eccellenza in cucina, ma come vedete le fotografie sono meravigliose, perché vanno veramente nel dettaglio. Una cosa che è importante appunto è capire chi è il fotografo di questo splendore. Ho trovato anche per l'appunto tutti i diritti per quanto riguarda le foto, ma sarebbe veramente opportuno che il suo nome fosse in copertina perché io lo trovo un fotografo eccezionale. Nessuno mai ha reso la farina e un po' di cacao così interessanti come in questo libro. Se si vuole essere bravi, vediamo se lo inquadro bene, se si vuole essere bravi in qualcosa credo che padroneggiare le basi sia il modo giusto per acquisire sicurezza in cucina come in ogni altro campo. Bisogna saper camminare prima di correre, giusto? Perciò in questo libro vi svelo tutte le mie ricette di base, i veri e sperimentati capisaldi dei migliori classici, più indispensabili della cucina contemporanea che amo e che preparo sempre. Penso alla bistecca perfetta, al pollo arrosto dorato, alla pancetta di maiale e via dicendo. E la cosa interessante è per l'appunto che non ne avranno, spero, i nostri amici vegani perché io amo moltissimo anche la cucina vegana, non ho ancora avuto il coraggio e la forza diciamo di abbracciare questa filosofia anche se la rispetto moltissimo perché credo che sia davvero salutare per noi e anche per gli animali ovviamente. Comunque eccolo qui, c'è il primo capitolo salato, c'è una prima parte dedicata a tutte le ricette salate, io ancora ho già la colina in bocca veramente a vederle, a guardarle assieme a voi, pollo fritto e quant'altro. Io ho già provato a fare qualche cosa, vediamo, vediamo. La punta. Io ho provato a fare qualche cosa di buonissimo. Ci sono appunto le lasagne, non lo voglio svelare tutto. Comunque questi i ravioli con i gamberi saranno sicuramente la mia prossima ricetta. Come vedete poi rende abbastanza contemporaneo quello che è il nostro cibo classico che però viene rivisitato, rivalutato. Poi adoro per esempio questi piccoli dettagli con l'aglio brusolito tagliato così a metà, una cosa che io non faccio solitamente, quindi va bene, non ve lo voglio svelare tutto. Ecco la ricetta che ho provato io per l'appunto. Ho preparato una zuppa così con il pollo ed è veramente eccezionale e all'interno ho messo anche dello zenzero, pollo bollito all'asiatica. Eccolo qui. Ve lo consiglio, vi consiglio accaldamente questo libro. Fra l'altro poi per gli amanti dei dolci, io ho visto che c'è una parte, le fotografie sono meravigliose, adesso voglio dirvi il nome del fotografo e c'è una parte dedicata ai dolci che è eccezionale. Devo dire che io non sono appassionata di dolci, preferisco il salato, però vedere questi dolci meravigliosi, fotografati così nel dettaglio, così bene, fanno veramente venire voglia di prepararli tutti. Per cui credo che sarà anche questo uno di quei libri che utilizzerò tantissimo. Vedete anche che originalità. Adesso vorrei trovare per voi, ah, alla fine la quale interessante è che comunque ci sono tutti i glossari, per cui se ci fossero, per esempio, c'è il glossario degli ingredienti contrassegnati, per cui riuscite a vedere tutti gli ingredienti particolari, ci sono gli utensili, per cui anche questi sono tutti descritti, insomma ci sono molte indicazioni per uscire, per esempio, non lo so, trovare che cos'è la colla di pesce piuttosto che altre cose, ecco, è veramente eccezionale. Io ve lo consiglio, sono felicissima di averlo ricevuto, come vedete il prezzo di copertina non è alto, per cui è un regalo che ci si può autofare sicuramente. E poi, come vi dicevo, io adoro poterli abbracciare i libri, per cui... Sì, io ce l'ho qui e lo abbraccio, come tutti i libri, con grande amore, sono davvero felicissima di questa scelta e soprattutto sono felice di aver potuto condividere con voi la mia passione per Donna Hai, ecco, per quello che fa. Troverete anche parecchi video di lei, ve lo faccio rivedere, comunque vi lascio tutti i link in descrizione, sia per quanto riguarda il libro, che è acquistabilissimo, ovviamente, sia per quanto riguarda i video che magari potete vedere su di lei. Vedrete che sarà un aiuto fondamentale per la cucina. Vi lascio anche in descrizione tutti questi nuovi prodotti di Le Croisette, compre delle tazze che io ho adorato, veramente, sono veramente molto contenta di ciò che è arrivato, e anche un piccolo link per andare a vedere, se ancora possibile, qualche mobile vintage per l'appunto d'epoca nel posto dove l'ho trovato io, che è un posto meraviglioso vicino a Como. Per adesso vi saluto e vi saluto così, diciamo, temporaneamente perché ci sarà prestissimo il lancio del blog, quindi la settimana prossima avremo sia la vacanza per San Valentino che il lancio del blog. C'è Coco che si sta nascondendo nella mia copertina. Un abbraccio ragazzi e a presto. Ciao!